Musica Buona serata a tutti, diamo ufficialmente inizio a questa ormai consueta serata, consueto appuntamento Che il patron Stefano Ceresani ci regala ogni anno in occasione del carnevale Ci delizia con le sue creatività, col suo estro, con la sua maestria di maestro pasticcere Perché oltre al gusto, oltre al palato ci delizia anche con la tua maestria creativa Perché dai vita a delle opere d'arte, se mi consenti questo accostamento Che sono frutto del tuo estro, della tua passione che immutata resta nel tempo e negli anni Quindi tributiamogli un giusto applauso a questo maestro pasticcere, orgoglio della città di Fano Che possiamo vantare Sono tre mesi che a tempo perso durante l'arco della giornata Mi dedico a realizzare queste opere del carnevale che quest'anno sono tendenzialmente sempre basate sul cioccolato L'idea appunto di Francesco Simoncini che mi ha dato lo spunto per fare Quest'anno era il bugiardone, era un Pinocchio E a tempo perso appunto ho fatto questo Pinocchio Teniamo presente che non ci sono stampi in commercio di Pinocchio Bisogna farlo, per cui bisogna realizzarlo Tutto quanto in cioccolato, bisogna fare tutto quanto Poi ci siamo un po' sbizzarriti Oltre che Pinocchio abbiamo fatto anche il Pinocchio Oltre al Pinocchio di cioccolato che sta in piedi L'abbiamo fatto seduto Abbiamo fatto il Pinocchio, il libro di Pinocchio Dove a sinistra c'è Pinocchio rifigurato e a destra c'è il gatto e la volpe Abbiamo fatto anche Pinocchio sulla barca Con le botti del rum e del cognac Abbiamo fatto anche dei bacioni Perché non c'è carnevale di fauno se non c'è i baci I bacioni li abbiamo realizzati con la nocciola Con il pistacchio e con il limone Tutto cioccolato, tutto quello che vedete è tutto quanto commestibile Del libro ne abbiamo già parlato Abbiamo fatto anche il disegno di Piccinetti Perché l'idea del pupo di quest'anno Che io ne sappia del Bugiardon e di Francesco Simoncini Il disegno l'ha fatto Piccinetti E Leo Caro l'ha fatto Furlani Luciano Cecchini ha parlato di Moretta del Carnevale Allora mi è venuto da pensare La Moretta mi è venuto da pensare alle vecchie osterie Per poi realizzare un tavolo Un tavolo di cioccolato come quello di l'osteria di una volta Con tanto di sedia La bottiglia della Moretta E i bicchieri per mettere la Moretta appunto Tutto quanto in cioccolato I bugiardin I bugiardin che sono dei cioccolatini Di cioccolato fondente, cioccolato bianco Dove c'è l'immagine del pupo di quest'anno Il dolcino, il tortino che vedete qui alle mie spalle Quello piccolo È fatto con la Moretta del Carnevale Di cioccolato Ricordo che negli anni 60 Mi sembra 66-68, adesso poi lo chiediamo meglio Avevano già, sempre per carenze economiche La Carnevalesca aveva organizzato sì i corsi mascherati Però non aveva realizzato il giovedì grasso Purtroppo c'era questo problema di tappare questo buco Ricordo che il signor Berardi che è qui presente in sala È salito su un carro da solo Con un briciolo di musica Ha fatto un briciolo di getto Il corso stracolmo di gente E c'era lui sul palco Sul carro Che faceva il getto Che raccoglieva la gente Era mascherato con un mantello nero Mi ricordo qualcosa del genere Avesse addosso qualcosa Però ecco È vero quello che dico Che il signore qui presente Ha realizzato da solo un giovedì grasso La mia domanda è questa Professore Cos'è cambiato da allora ad oggi? Perché sempre carenze economiche si parla O meno? Credo proprio di sì I soldi non bastano mai E ce ne sono a sufficienza Però ogni volta Per realizzare le nostre sfilate A magli estremi Estremi rimedi Come si dice E quindi se necessario Siamo di nuovo disponibili Anche con la gamba rotta Come in questo momento A produrre Il momento più felice Della comunità fanese Che è E non potrebbe non essere Il carnevale Bisogna amarlo E ancora una volta Rinnovo l'invito Che già il presidente Tutti i giorni Propone per radio A tesserarsi Alla carnevalesca E' impossibile Che non si raggiunga Il numero di mille Vediamo se questa volta Lo sfioriamo O addirittura lo superiamo E non è una bugia Rossella Fiorani Miss Fano Allora il primo carnevale Da Miss Fano Esattamente Allora ci aiuterai Nel difficile compito Di distribuire Dolcezze Questa sera Allora Chiamiamo anche Colui che rappresenta In questo momento La città E il nostro Vice sindaco assessore Marchegiani Un applauso Buonasera Dal padrone di casa Arriva una sollecitazione Io mi faccio l'attore Di questa sollecitazione E allora Questi passeggi Gli riusciamo A rivitalizzare E riproporre In questo ambito Intanto grazie A tutti voi A Ceresani Con le sue opere d'arte Ma anche alle opere d'arte Di Carristi Quest'anno E di quanti hanno animato Una manifestazione Che era partita Con l'incertezza del tempo Ma poi ha dato Un grande risultato Già nella prima Domenica Io dunque Penso questo Ma è un'ovvietà Quella che dico Però è un'ovvietà Come diceva il professor Berardi Che bisogna condividere Perché Magari noi fanesi Siamo abituati Fin da piccoli A godere del carnevale E sembra una cosa Scontata E non da conquistarsi Il carnevale È una manifestazione Che caratterizza Questa città Adesso A parte Il ciclo di libri Che sono stati Pubblicati Sui Carristi Ma domani Ci sarà La presentazione Di un ennesimo volume Interessante Sulla musica arabita È una peculiarità nostra Questo è il carnevale Più antico Sicuramente D'Italia Ma d'Europa Pensiamo C'è un centro Di documentazione Straordinario Che è stato Allestito Da volontari E quindi Speriamo presto Di dargli una sede Idonea Affinché possa essere Goduto Ai cittadini e turisti Chiaro che L'amministrazione È al fianco Di questa Manifestazione Straordinaria E speriamo Di sfruttare I finanziamenti Dell'ITI Di questo Grande strumento Che dovrebbe portare A Fano Almeno 2 milioni di euro Stiamo lavorando Anche l'Insinergia Con Pesaro Anche per fare appunto Questo centro Di documentazione Barra Museo del Carnevale Magari recuperando Qualche contenitore Storico Abbandonato Di grande pregio Che abbiamo a disposizione Poi ovviamente I passeggi I passeggi Sono un giardino Magnifico di Fano Che ha bisogno Di essere rilanciato Io esco da una giunta Proprio adesso Dove abbiamo analizzato Un bando esplorativo Per vedere Se ci sono dichiarazioni Di interessi Di imprenditori Cooperative Associazioni Per adottare i passeggi Questo è un atto Dovuto in momenti Di ristrettezza finanziaria Perché se trovassimo Appunto Un imprenditore Oppure una cooperativa Che presentando Un progetto interessante Che non può essere Ovviamente Il baretto Deve essere un'altra cosa Perché i passeggi Poi insomma Qui siamo in aderenza A una grande struttura Commerciale Di eccellenza Deve essere un punto Di aggregazione Un punto Che abbia delle idee Da spendere Un punto dove fare Vita sociale Animazione con i bambini Musica all'aperto Presentazione di libri Proiezione del cinema Sotto le stelle d'estate Stiamo sperimentando Queste cose Perché ci rendiamo conto Di questo Mercatini E perché no Tutta una serie Di attività Che col carnevale Che noi immaginiamo Debba essere raccontato Durante l'anno solare Non solo a febbraio No a febbraio È la Kermess È il punto D'esplosione Del carnevale Ma questa città Deve presentarsi Nei modi dovuti E nelle manifestazioni Opportune Declinando il carnevale Durante tutto l'anno E anche questo È uno degli obiettivi Del progetto nuovo Ecco che non sia Un carnevale a spot Insomma Grazie Stefano Ti senti soddisfatto Dalla risposta Del Io lo possiamo dare Il Io diamo l'ok Io diamo l'ok Va bene sì Allora Per le mani Della Miss Grazie mille Bene Grazie a te Grazie Grazie a te Grazie a te E allora Dell'invito Naturalmente Non solo a nome mio Personale Ma dell'intera Assemblea Legislativa Delle Marche Che quest'anno Ha voluto in accordo Con il carnevale Di Fano Come dire Promuovere Questa edizione Presentarla Proprio in regione Perché siamo Assolutamente Convinti Che non è Ma credo Che questa è Convinzione comune Un evento Cittadino Quello del Carnevale di Fano Non è nemmeno Un evento Provinciale O regionale Un evento Nazionale Ed internazionale Per molte ragioni E quindi Insomma La sede Della regione Per presentare Questa edizione Ci è sembrata Assolutamente Opportuna Prima di consegnare Il dolce cadò Però lei deve Passare sotto La forca caudina Della domanda Del padrone di casa Insomma Per cui Aveva delle idee Ben chiare Prima nel backstage A riguardo È vero Stefano Su cosa domandargli Senza dubbio Senza dubbio Senza dubbio Prego Puoi fare la domanda Grazie No Si pensava A un gettone A uno spot Legato a questo tema Così annoso Dell'incomunicabilità Verbale Che arriva sempre Invece attraverso La comunicabilità Virtuale Telefonini Quant'altro Insomma Si pensava A una tassazione Ad hoc Per ogni tipologia Di messaggino Non sarebbe male No no Io ho capito Perfettamente Anche perché Ho avuto modo Di confrontarmi Con il patron Di questa serata Con l'artista Viviamo Tutti Un po' troppo Di fretta E forse ci perdiamo Il tempo migliore Il tempo dell'attenzione Nei confronti Degli altri E allora Non è sbagliato dire Ma in questo momento In cui gli enti locali I comuni Le province Le regioni Lo Stato Non hanno risorse Basterebbe Tassare Chi passa Gran parte Del suo tempo Come dire A comunicare In modo virtuale Piuttosto che Confrontarsi Con gli altri Basterebbe Veramente Una piccola tassa Su Un sms Su una telefonata Su una esagerazione Di questo tipo Probabilmente Risolveremo I problemi Di molti enti Anche questo È frutto Della genialità Di una persona Che insomma Fa arte Quindi ha inventiva E ha fantasia Bene Grazie Grazie a voi Al presidente Vittoriano Solazzi Che riceve Dalle mani Della Miss Il Pinocchio Io vi voglio Strappare un grosso Applauso Nel mentre voi Alzate il capo E guardate Date un occhio A quello che c'è Alle pareti Che sono delle opere D'arte Io chiamo A me Con lei Che le ha Prodotte Samanta Vartolucci Prego Vieni qua Premio Alla creatività Un premio È giusto Mi sembra giusto Una grande artista Una grande professionalità Una grande passione Per il proprio lavoro Complimenti Farai tanta strada Indubbiamente Bene Allora Una domanda Te la faccio però Cosa ti ispira Nel momento in cui decidi Di approcciare A un'opera Ma molto Molto sono le emozioni Le sensazioni anche Che si vivono Al momento Quello che vivi Infatti in queste 12 illustrazioni Il tema è Carnevale in rosa Dove il protagonista È la donna Ma anche l'amore Ma l'amore Non solo inteso Fra uomo E donna O comunque di coppia Ma un amore È proprio interiore È quello che si stava Anche parlando prima L'amore interiore Quindi c'è anche Infatti il tema Della casa L'amore che abbiamo Guardando la luna Sì anche l'amore giocoso Anche di una bella serenata Oppure di pagliacci Che comunque In qualche modo Possono giocare E dare vita Anche a Un corteggiamento Verso una donna Che negli ultimi tempi Un po' si è persa Questa cosa Ricevi Anche tu Il libro Con il Pinocchio Grazie E allora Il tema di quest'anno Il filo conduttore Di questa edizione In tema anche In linea Con l'Expo 2015 È La gastronomia I prodotti Enogastronomici Della nostra terra Quindi il brodetto Quindi la moretta E i dolci Allora L'ideatore Di tutto ciò Lo chiamo a me Luciano Cecchini Presidente della carnevalesca Prego Diciamo solamente La etichetta O meglio ancora Il logo Del nostro carnevale Ha Diciamo Vestito Una bottiglia Di moretta Tradizionale Ed è diventata La moretta Del carnevale Ma viene Completamente Distribuita Venduta Eccetera Tra la mola major Che già Molti esercizi Della nostra città Ce l'hanno Quindi la trovate Nei pasticcerie Nei ristoranti Negli hotel Perché così va avanti Il nostro Prodotto numero uno Che è il carnevale Ecco il carnevale di Fano Quindi ha studiato bene La moretta Quest'anno L'abbinamento Con il brodetto Che è un'altra nostra eccellenza La romanità Non si poteva imbottigliare Ma ce l'abbiamo Dall'arco D'Augusto E le mura Ed ecco che Tutte Il carnevale Appunto Racchiude Tutte le nostre eccellenze Vorrei dire una cosa Devo dire Grazie a Stefano Ceresani Che ormai da anni Organizza Ed è l'ideatore Di questo incontro Di questo giovedì Precedente Alla settimana grassa Dove dedica Un pomeriggio E il suo lavoro Di mesi e mesi Dicevo prima Scherzosamente Con Paolo del Signore 3-4 mesi di lavoro Quello che i nostri Maestri carristi Ci mettono Per fare un carro allegorico Due questioni Pongo alla tua attenzione La prima Carnevale a pagamento Carnevale non a pagamento Questa l'aspettate Ti sei preparato un mese Questa domanda Questa me l'aspettavo Poi davanti a me C'è Alberto Verardi Che siamo in perfetta Sintonia No? Vedo sul discorso Del pagamento Chiariamoci bene Cioè è stato preso Con enfasi Tutti i vari giornalisti Qui presenti Hanno subito scritto A pagamento Destra e sinistra Sì E lo stiamo studiando E sarà un sistema nuovo Per introitare Qualche lira Meglio ancora Qualche euro Per portare avanti Al meglio che sia possibile La nostra manifestazione Perché questa manifestazione Ha bisogno di crescere Purtroppo io sono diventato Presidente In un periodo di magra Ogni anno Dobbiamo tagliare E rimanere con un programma Avete visto quest'anno Almeno Ho avuto dei Applausi da tutti Che siamo riusciti Ad organizzare Oltre 30 eventi Legati al mondo del carnevale Portando un bilancio Sotto i 350 mila euro Che è il costo Della nostra manifestazione Allora se questa manifestazione Deve crescere Per forza O per piacere Deve trovare Un sostegno Un sostegno economico L'ente Pubblico Tagli a destra Tagli a sinistra Ci tocca mangiare I tavolini e le sedie Il privato Lo sapete Sono già tre anni Che da 100 e 20 mila euro Di sponsor Siano scesi Sotto la metà In un certo qual modo Noi dobbiamo recuperare Qualcosa Allora si è pensato Di introitare Un sistema Di pagamento Che ripeto Non è sicuramente Penalizzante Per i fanesi Perché il carnevale È festa di popolo Professor Berardi E siamo D'accordissimo Tale deve rimanere Quindi per i fanesi Non ci sarà Nessunissimo Tipo di aggravio O di particolare Gabelli O compagnia varia L'ha detto prima Alberto Io lo ripeto La tesserina Della carnevalesca Che costa 10 euro Sembra uno scherzo Ma se provate a moltiplicarla Per la metà Degli abitanti Del carnevale Avremo pagato Tutto il carnevale Per gli abitanti Della città di Fano Avremo pagato Il carnevale È assurdo 30.000 tessere Ma cominciamo A darci da fare Perché la tesserina Essere dell'ente Carnevalesca Significa essere Del carnevale E significa avere Le porte spalancate Quindi Fano Avrà sicuramente Questo Questo biglietto Se vogliamo La tesserina Della carnevalesca Allora io non trovo Niente di male Perché ce lo dicono Proprio La riprova Quest'anno facciamo Una prova La prova test Negli ingressi Abbiamo i biglietti Della lotteria E il prendigetto La prima domenica Purtroppo il tempo Non è stato eccezionale Ma comunque sia Le migliaia di persone Hanno follato Via le Gramsci E il primo test Ha portato un positivo I 2,50 euro Mi hanno detto Così le associazioni Che addirittura Hanno trovato Un giovamento Hanno triplicato La vendita Dei biglietti Potrebbe essere Anche questa E la soluzione Opportuna Ma al che vada Si chiede Qualche euro A chi viene da fuori Cioè nel senso Faccio questo esempio Lo porto Anche non è banale Andate a qualsiasi Manifestazione Mercatino Sagra Finché la barca va Chi 2 euro Chi 2,50 euro Chi 3 euro Chi 1 euro Quel che sia È una tassa Che mi mettono Però non abbiamo Deciso nulla E lo stiamo Ragionando Assieme Al vice sindaco Sindaco E giunta intera Di studiare Un qualcosa Che ci porti Solo del bene Al nostro carnevale Insomma si avanzava L'ipotesi Perché non fare Dei tabelloni Permanenti Magari con i manifesti Del carnevale Ai tre ingressi Della città Con le date Così Chiunque viene In qualsiasi data In qualsiasi momento Sa che No? Come bello Questa domanda Mi piace molto Allora Non si possono mettere oggetti Nella rotatoria Non si possono mettere le scritte Non si può guardare Non si può Non si può Non si può Prendiamo La benzina La metto io Ci spostiamo 17 15 16 chilometri E troviamo Già dagli amici Di Pesaro Cattolica Fino arrivare Riccione Uno spettacolo In ogni rotatoria Si parla Di quella città Allora Fano città del carnevale Deve essere a 360 Mi impegno Io formalmente E il vice sindaco qua Di discutere subito Questa cosa Il biglietto Tu arrivi alla Lissia C'è la rotatoria Due coni Allora uno può dire Qui vendono i gelati No? Sì di fatti C'è La gelateria Poco lontana Quindi ha bisogno Di una informazione Aggiuntiva Che parli di carnevale All'uscita dell'autostrada Abbiamo noi Dei pupi di resina O gli facciamo Dove dobbiamo scrivere Alla gente Benvenuti a Fano La città del carnevale Quindi mi trovi Non d'accordo Ma d'accordissimo Stefano Abbiamo qui Furlani Simoncini Che hanno ispirato Piccinetti La tua arte Li possiamo chiamare Qui a noi Per venire qui Francesco Venite qui Furlani Prego Piccinetti Va bene Furlani Fate il carro Va bene Va bene È giusto Allora Se non c'è L'abbiamo L'ho nominato Maldestramente Già due tre volte Quindi Onore e merito Allora È rimasto nel cuore Del maestro pasticcere Questo personaggio Ma è un personaggio Che tutti conoscono Noi lo abbiamo Abbinato All'elezione Del sindaco In realtà Però Senza Pensare a una persona Vera Quindi è Un'idea No Diciamo Quindi Abbiamo fatto Questa cosa Che penso Che sia Piaciuta Poi Paolo In particolare Ha fatto L'ha realizzato Benissimo Per cui Ecco Vedere Realizzate Materialmente Le proprie idee Deve essere Una bella soddisfazione È una È la cosa Più Più bella Per uno Come me Che fa il carnevale Da Da sempre Insomma Quindi È Come si dice La cosa più bella È Pensare Prima E poi La realizzazione Dopo Quello che è Non so La sfilata Eccetera Quella è una cosa Che quasi Mi tocca meno Nel senso Che Oramai Il mio lavoro È concluso Insomma Ecco Dalla mente Il braccio Insomma Voi l'avete Realmente Messo in pratica Tanta fatica Questo bugiardone Eh Sì no Per la precisione Io sono Una delle ultime Ruote del carro Del famoso carro Da me è partito L'input L'idea Per realizzare Sia il bugiardone Che il carro Di quest'anno Che è le battaglie Del metauro Ne ho parlato Con il professor Picinetti Con il professor Furlani Hanno realizzato Rispettivamente Il disegno Il bozzetto Del bugiardone E della battaglia Del metauro E poi Una squadra Di 20 30 persone Di appassionati La gomma piuma Per caso Si sono adoperati Per realizzare Queste due opere Naturalmente Dietro La supervisione E comunque Realizzazione Del progetto Di Paolo Furlani Allora La Miss consegna Il libro Con insomma Tutte e due E quindi Bene Buona mostra Grazie 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 E ancora complimenti Stefano Abbiamo scordato qualcuno? No Ci siamo dimenticati Di dare il cadeau Alla Miss Ecco Eh Lo dai tu però Per la torta E tutti Ad assaggiare Le squisitezze Del caffè del pasticcere Perfetto Quindi l'invito L'avete avuto Un applauso ancora Al maestro Ceresani Per questo bellissimo appuntamento Che ci regala Tutti gli anni Riceve la Miss Al termine della sua Della sua bella presenza qui Anche lei Il libro Allora Insomma Te lo mangi o lo conservi? Lo mangio Lo mangi? Lo mangio Promessa? Promesso Va bene Un applauso A Rossella Fiolani Miss Fano E allora Vanti il pago Sono i coi carri E tra 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 E vedete Quante vera La libertà Agi avanti Invece Questa aspirata Sai sapere Sede dietro Che rompe i rispivai E allora Vanti i pacassoni Coi carri E ta 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 E rogge Quante vera La libertà Che no Stupra Tutta sta Alegrina Che non Con l'energia Per combate E cattà E allora Vanti i pacassoni Coi carri E ta 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 E la libertà E la libertà E la libertà Agi avanti Invece Su questa aspirata Sai sapere Sede dietro Che rompe i rispivai E la libertà E la libertà E la libertà E la libertà Che no Stupra Tutta sta Alegria Che dan Con l'energia Per combate E campare Che no Stupra Tutta sta Alegria Che dan Con l'energia Per combate E campare Per combate 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 Per combate